Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Lo so che le pagelle di prima mattina sono qualcosa di lontano dall'abitudine, però dato che abbiamo giocato alle 6 abbiamo commentato anche la qualificazione aritmetica alla Champions League, pensavo di portarvi le pagelle di mattina presto, pagelle molto molto veloci perché non credo che ci sia necessità di commentare ulteriormente questa partita e anzi saranno pagelle anche fin troppo brevi. in cui voglio veramente dire una parola per ogni tesserato perché se non hanno voglia loro di giocare la partita con la Salernitana e guadagnarsi sul campo alla qualificazione Champions io non ho sicuramente voglia di commentare una partita scandalosa e che posso quasi mettere al pari di quella col Maccabi. Dico quasi perché qua alla fine siamo riusciti anche a portare a casa un punto, guarda, proprio una meraviglia. Noi siamo qualificati aritmeticamente alla Champions League. Evviva! Yuhu! Evviva! Bene, se non avete visto questo video in cui vi parlo delle sensazioni, delle impressioni, anche delle paure, le preoccupazioni che legano la serata di ieri, se la qualificazione della Champions alla partita di Coppa Italia alla finale contro l'Atalanta, beh, vi lascio il video qui sopra nelle schede. Allegri voto 4, Juventus impresentabile da tanto tempo, ormai, ma veramente, in casa contro la Salernitana, è inaccettabile. Tutto, non c'è niente di accettabile. Scesni voto 5,5. Non impeccabile sul gol, però se lasciamo anche i giocatori liberi in area di rigore sicuramente non facciamo un favore al portiere. Rugani, voto 6. E il voto si alza per un motivo. Ha chiesto ad Allegri di essere sostituito e di mettere al suo posto un giocatore offensivo. Quindi praticamente anche, non lo so, secondo di Allegri in campo, un po' Landucci, un po' Rugani. Gatti, voto 5. Non mi ha dato assolutamente sicurezza e quando arrivava al limite dell'area cercava quasi sempre la conclusione, simbolo di quanto siamo impreparati e di quanto improvvisiamo ogni gara. Non un giocatore che mi ha dato una buona impressione. Bremer, voto 6. Uno dei pochi, veramente pochi punti luce all'interno di questa squadra disastrata. Cambiaso, voto 5. Non il cambiaso migliore, non il cambiaso dell'andata, un cambiaso che sta facendo molta, molta più fatica anche quando entra dentro il campo. Rabbio, voto 5. Il gol non fa assolutamente arrivare alla sufficienza una prestazione dove sul calcio d'angolo si va a perdere il giocatore avversario e dove dentro il campo sembra sempre dover fare un favore a giocare la partita. Rabbio, svegliati perché veramente non... io in diretta cantavo Rabbio, svegliati è primavera, ok? È quasi estate. Non è primavera, è quasi estate. Lucatelli, voto 4. Inaccettabile che il centrocampista titolare della Juventus che giochi davanti alla difesa sia sempre quel giocatore che quando ha il problema tra i piedi non prova mai qualcosa in più del semplice passaggino o retropassaggio. Squalificato in finale di Coppa Italia, Nicolussi Caviglia è all'interno della Naftalina, non ho idea di come lo tireremo fuori per questa partita contro un'Atalanta che va fin troppo forte. McKennie, voto 4. Si è fatto saltare più volte dai giocatori della Salernitana, dal terzino destro mi pare della Salernitana, anzi scusate sinistro della Salernitana. McKennie che viene sostituito a fine primo tempo, non una gran partita per lui, anzi. Kostic, voto 4. Ve ne eravate accorti della presenza di Kostic? No, nemmeno io. È stato sostituito a fine primo tempo e poi non è che si è cambiato granché. McKenn, voto 4. Titolare. Così, a caso. Non ha ancora fatto un gol in stagione. Chiesa e Ildis non stavano bene. Titolare. McKenn. Poi sostituito ovviamente a fine primo tempo pure lui. Scelte un po' incomprensibili. Vlaovic, voto 5. Quella traversa all'inizio. Ha cambiato, tra l'altro aveva preso il palo. Vlaovic, quella traversa all'inizio e poco altro. Anche un gol sbagliato su un contropiede servito da Chiesa. Vlaovic è sicuramente distante dagli standard di rendimento, dove aveva la possibilità di trasformare in gol le occasioni poche che gli capitavano tra i piedi. Chiesa, voto 5.5. Entra un po' a frizzantino, un po' a sinistro, un po' a destra, a seconda di chi gli stava intorno. Non è riuscito a sbloccare questa gara, non è riuscito a sbloccare nemmeno lui la sua partita. Piccoli segnali di ripresa, ma ancora troppo poco per un giocatore impattante come Federico Chiesa. Miretti 5.5, un altro che prende la traversa. Tra l'altro la Salernitana non è stata punita in quel dribbling sconsiderato dell'attaccante. Ora mi sfugge il nome, non mi ricordo chi era stato. L'attaccante molto stanco che ha provato a dribblare. Prendiamo palla noi, Miretti tira, becca la traversa. La Salernitana che si gioca anche un jolly in quel modo lì. Eling Junior 5. Un po' a destra, un po' a sinistra. Buttato lì nella mischia, non aveva praticamente mai la possibilità di fare differenza. Ma è un giocatore che in questo momento è completamente privo di qualsiasi tipo di fiducia da parte dell'allenatore. E quindi buttarlo in campo gli fai forse anche solo un dispiacere. Eling però, credo che alla Juventus abbia terminato lo suo tempo, perché quando poi viene messo dentro non fornisce prestazioni di livello. Peccato, giocatore che ritenevo interessante, ma che ha dimostrato veramente troppo poco fino adesso. Il Dizfoto 6 è l'unico che ha provato un pochettino ad accendere la luce quando aveva il pallone tra i piedi. Anzi, a un certo punto pensavo si fosse fatto anche molto male alla spalla. Spero che possa recuperare da questo virus. Lui che si aveva nel virus, ha detto Allegri, posso recuperare da questo virus al 100% in vista della finale di Coppa Italia. Piccola, ecco, mi prendo veramente un minuto soltanto per parlare di una roba legata a Ildis. Perché anche il fatto che si è entrato così tardi all'interno della partita, qualcuno mi ha detto, eh ma non stava bene. Però ragazzi, quando un giocatore viene convocato e quindi viene portato in panchina, significa che è disponibile. Cioè, se vai in panchina, significa che è pronto per giocare. Poi puoi avere un minutaggio diverso, minore, più lungo. Però se viene portato in panchina, può giocare. Il fatto che Ildis abbia avuto il virus, così come l'ha avuto Chiesa, Ildis ha perso anche qualche chilo, ha detto Allegri, quindi veramente sarà stato in bagno. Non voglio neanche immaginare ricostruire. Però se te lo porti in panchina, significa che è disponibile e che anche se ha, eh, se proprio va male lo butti dentro. Ecco, mi sembrava che l'Aventus comunque non stesse passando proprio un periodo meraviglioso. Farlo entrare così poco tempo alla fine, buttarlo lì, secondo me, non è stata per niente una grande idea. Ma proprio no, l'avrei comunque messo dentro qualche minuto prima, anche se aveva avuto il virus, anche se si era cagato addosso tutta la settimana, eccetera, eccetera. Milik, voto 6, un'occasione, impegna il portiere avversario, Vincenzo Fiorillo, che deve smanacciare in calcio d'angolo. Milik, comunque un'occasione a partita se la va sempre a creare. Questo, ragazzi, era Salerintana-Juventus, anzi Juventus-Salerintana, 1-1, le pagelle, brevi, molto molto brevi, non avevo altro da dire. Fatemi sapere la vostra, sotto nei commenti, con le vostre pagelle. Oggi veramente volevo togliermene il prima possibile, ribadisco anche un po' una protesta pacifica, ma se non hanno voglia loro, non ho voglia neanche io. Ciao.